Salve a tutti, vorrei prendere come spunto un terribile fatto di cronaca avvenuto a New York City per dare uno dei consigli secondo me più importanti per chi visita New York City, per chi ci viene per motivi di business, per chi ci viene a vivere. Ora, quello che è successo è che un tizio ha attaccato e ferito mortalmente tre persone a Manhattan con una lama e questo ha causato grossa commozione emotiva, almeno online, da quello che ho potuto leggere. Il motivo principale, presumo, sia per quello che è stato riportato dai mezzi di comunicazione, ha riportato le parole di questo tizio che ha detto che ho attaccato queste tre persone perché erano distratte, perché erano deboli, perché una cosa del genere. Per me era facile attaccarle. E questo mi porta di nuovo al consiglio che vorrei dare a tutti, che è quello di... che in inglese si chiama situational awareness, ovvero sia di essere consapevoli della situazione, dell'ambiente in cui uno si trova. Quindi, se c'è qualcosa che sembra strano, che sembra fuori posto, se c'è qualcuno che cammina o urla o è vestito in maniera, diciamo, strana, distaccia alla larga. Il fatto è che a New York City, per l'applicazione della legge che ci sono, molte persone come questo tizio sono a spazio libero, sono in città. Questo tizio aveva, ha, una piuttosto lunga lista di crimini e di episodi di, presumo si possa considerare, malattia mentale. Commette un crimine, viene arrestato, viene rilasciato. E questa è la situazione a New York City. Con questo non è che voglio, non è che voglio fare paura, non voglio giocare col gioco nel quale uno spaventa gli altri, tutt'altro. Quello che voglio dire è che, di nuovo, di stare allerta. Mi consiglio per chi viene in vacanza, e con vacanza uno intende, insomma, uno si rilassa, uno va a vedere i musei, uno sta tranquillo, va al parco. È una città grossa, ci sono tante persone, ci sono tante situazioni che possono andare male. Questo lo dico con cognizione di causa, dato che, vivendoci, ci ho vissuto per 5 o 6 anni, e per un paio di anni ho fatto consegne, quindi giravo in macchina, anche a piedi, bicicletta, ne ho viste abbastanza. C'è un altro esempio di recente, nel quale un camion ha ortato una struttura, un'impalcatura, questa è ceduta e ha schiacciato una persona che ci stava lì sotto. Non so le sue condizioni, ma sicuramente non è una bella esperienza. Questa è la situazione a New York. Consiglio vivamente di tenere gli occhi aperti quando uno visita New York City. Alla prossima!